Dimmi, è molto tempo che non ti confessi Dall'1918 Dall'1918 Di pure tinte carte che hai commesso con le nostre idee che hai avuto Ma ci parecchi, carattere Bene cento Poi E poi sono io che l'altro momento mi abbia ragionato Poi reale Consente che Appassionato Ministro di Dio Tu hai piaciuto Dio? Tu hai piaciuto Dio? Ma è vero solo che hai dito Ma io poi, non c'ho appassionato Ministro di Dio Non c'ho avversario il tuo dito E' stato un momento di debolezza E' stato un tipo di potenza E' stato un tipo di potenza Di Dio Ma sono un tipo di potenza E' stato un tipo di potenza Il mio abisodore E' stato un tipo di potenza CHÉ Questa potenza